Buongiorno, ben trovati in Mr. Gadget, come al solito le daily news per entrare nel mondo della tecnologia con un sunto di ciò che poi troverete anche su mrgadget.net Oggi credo che la notizia del giorno sia l'esordio in Italia del Play Store di Google per quanto riguarda i devices Ieri all'improvviso, come sempre succede nel mondo Google, senza alcun tipo di annuncio, senza alcun tipo di fasto, di pomposità E' arrivato il Play Store anche per noi, che eravamo esclusi rispetto a molti altri paesi europei, dalla vendita diretta dei prodotti di Google Sono già disponibili il Nexus 7 2013 sia nella versione da 16GB che da quella da 32GB e anche nella versione LTE Peraltro i prezzi sono gli stessi che si trovano nei negozi fisici Quindi questo ci fa pensare che molto probabilmente anche noi nel prossimo mese di ottobre, se verrà rispettata la data di presentazione Avremo il Nexus 5 in vendita nel nostro paese, lo speriamo ovviamente A proposito di Nexus 7, se siete tra i possessori che lamentano in alcuni casi alcuni problemi del multitouch Sappiate che c'è un aggiornamento in arrivo proprio in queste ore che dovrebbe risolvere proprio il problema del multitouch Un dato che riguarda invece iPhone 5C Trovate un articolo su mrgadget.net che riguarda i dati di vendita Secondo le prime stime, che non sono ufficiali, sono state rilevate da alcuni rumors Da un'agenzia di analisi di mercato e rilasciata poi agli investitori Il 5C venderebbe, dai preordini di questi ultimi giorni, molto di più di quanto avesse venduto l'iPhone 5 E a quanto pare le previsioni di vendita per il primo weekend di commercializzazione di Apple Sono di gran lunga, quasi del 50% superiori alle vendite ottenute dall'iPhone 5 E forse per rispondere all'arrivo così massivo di Apple sul mercato Ieri è trapelata notizia secondo cui il prossimo Android KitKat 4.4 avrà un supporto all'architettura a 64 bit Che probabilmente è la risposta alla scelta in questo senso fatta da Apple con il nuovo processore Altra notizia riguarda LG, a quanto pare il G-Pad ormai è vicinissimo Mancherebbero pochi giorni alla commercializzazione Il prezzo sarebbe ritoccato al ribasso, sarebbe di 299€ E a questo punto sarebbe davvero molto competitivo rispetto a tutti gli altri prodotti Android più interessanti sul mercato Altre due cose velocissime Il Note 3 di Samsung dovrebbe arrivare nei negozi americani il 19 di settembre Quindi ormai manca pochissimo anche la commercializzazione di questo prodotto anche in Italia E attenzione che nella stessa data, il 19 di settembre, dovrebbe arrivare BlackBerry Messenger per Android E subito dopo anche per iOS È sicuramente un passo importante per rendere ancora più appetibile la piattaforma BlackBerry Tutto questo e molto altro ogni giorno su MrGadget.net Ciao